ciao benvenuto in questo oroscopo per il mese di giugno 2023 per il tuo segno zodiacale allora partiamo dal cielo del mese con l'astrologia va bene allora ma allora toro la prima cosa che mi viene da dirti è il giorno 12 giugno è un giorno molto importante 12 giugno perché c'è lo spostamento di questi pianeti ora te lo ora se ne fanno poi chi li sentirà prima chi li sentirà un pochino dopo dipende molto dal tuo giorno di nascita dalla data di nascita di ognuno di noi ovviamente comunque il 12 giugno c'è plutone che ha fatto capolino era entrato in acquario come abbiamo visto no torna indietro rientra nel segno a te amico ok segno di terra del capricorno quindi già questo a un passaggio uno spostamento molto positivo molto positivo per te ti darà sicuramente occasione di rivedere un qualcosa un qualcosina che sta accadendo anche dentro di te andare un pochino a ripescare un qualcosa quindi diciamo una seconda possibilità tutto questo durerà poi fino alla fine dell'anno fino alla fine del 2023 ma un passaggio molto positivo è senz'altro il cammino fino appunto al giorno 12 di mercurio nel toro proprio sul tuo segno zodiacale e poi 12 giugno quindi si congiunge a giove che è in toro giorno 12 giugno passa poi in in gemelli e passaggio molto importante molto importante anche se in un segno un pochino un po così per te venere e marte che camminano tutto il mese nel leone ok quindi detto questo per te toro cosa significa tutto sto tutto questo ambaradà allora sicuramente qui c'è un qualcosa a livello proprio anche di studio a livello di interiore è un qualcosa che senz'altro dentro di te si può smuovere potresti anche guarda cosa ti dico riuscire a capire a sentire un qualcosa di quello che ti sta accadendo dentro sai quando si dice boh non ci capisco niente non so perché sono così non so perché faccio con la io credo che Plutone ti dia una seconda chance qui tu hai tempo fino alla fine dell'anno per riuscire a capire che cosa si sta smuovendo dentro di te sicuramente poi tu me lo farai sapere comunque Mercurio ecco Mercurio è molto molto importante anche dopo il 12 di giugno giorno in cui entra in gemelli allora qui sicuramente fanno vedere un'attenzione particolare che tu potresti avere per la sua immagine quindi senz'altro non so un vestitino un paio d'occhiali guarda non per nulla qui c'è Venere che parla di unione e Mercurio la novella quindi qui c'è letteralmente una nuova unione ok quindi un nuovo rapporto un nuovo amore che può nascere ma anche vedi qui c'è la novella la notizia la comunicazione molto bella molto positiva che ti arriva senz'altro dal lontano dal lontano comunque sia comunicazioni novità molto positive che ti può portare questo cielo questo cielo di giugno ok una lettera una comunicazione qualcosa di molto molto importante a cui sottieni molto è perché qui c'è Venere c'è l'amore c'è l'unione quindi senz'altro qui farai qualcosa di nuovo di molto positivo e di molto bello che tocca il tuo cuore con una persona a te molto cara a te molto cara un'unione con qualcuno non è detto che sia uomo donna o amanti eccetera potrebbe essere con tua figlia con tuo padre con tuo fratello con un'amica cioè ok con una persona legata a te da amore da affetto va bene quindi un qualcosa di molto molto positivo in tal senso ma proseguiamo andiamo a vedere per il toro giugno toro mese di giugno cos'è questo verso il corsetto che ha accidenti questa è una culla non so se si vede bene qui c'è una culla che ci parla di nascita o di concepimento di un bambino o di un'impresa quindi qui c'è o la nascita proprio di un bambino ma anche di un lavoro un nuovo lavoro una nuova impresa una nuova attività un qualcosa di nuovo che parte proprio ora nel mese di giugno oppure il concepimento quindi concepiamo in tutti i sensi bambino impresa che sia adesso per vedere poi la nascita vera e propria più avanti quindi qui diciamo si pianta un nuovo un nuovo seme in tutti i sensi per qualcosa accidenti che bello vediamo toro giugno toro mese di giugno infatti infatti qui c'è l'uovo guarda anche l'uovo ci parla di nascita qui c'è un successo qui c'è un successo qualcosa che andrà a buon fine delle nuove opportunità nuove strade che ti si apriranno davanti mamma mia che carte mamma mia effettivamente vedi questo flusone in capecorno bello specialmente per la terza decade del toro sappilo sfruttare toro mi raccomando andiamo a vedere gli oracoli volume 2 ti lascio il link giù in descrizione se vuoi queste carte mamma è bello nuove strade nuove possibilità farai qualcosa di nuovo che non ha mai fatto nuove chance bello 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 qui fra cielo e terra vanno d'accordo quindi sia le stelle con il cielo del mese l'astrologia sia le carte c'è qualcosa che devi sistemare e qui ci hanno detto che devi lavorare devi fare un qualcosa ok andiamo a vedere per il toro e plusone se ne darà la possibilità presta attenzione ai dettagli quindi qui c'è un qualcosa magari un qualche piccolo dettaglio che ancora dovevi sistemare di una situazione ok un qualcosa che tu devi mettere a punto va bene oracoli dell'amore che non parlano solo d'amore ovviamente vediamo toro giugno toro mese di giugno accidenti ti spia sui social quindi qui c'è un qualcuno concorrenza in amore vediamo qui c'è un qualcuno che agogna ad un qualcosa che hai che hai te o viceversa c'è un qualcuno che è ancora una zarda fassa avanti ma che guarda quello che tu fai andiamo a vedere forte innamoramento qui o te tu ti innamori di qualcuno o c'è qualcuno che si innamora o è innamorato già di te va bene anche questo mettiamolo lì e andiamo adesso a vedere con i tarocchi abbiamo visto il cielo con i pianeti con i transiti vediamo i tarocchi che cosa aggiungono a questo a questo quadro segno zodiacale del toro nel mese di giugno giugno per il toro il papa il papa il papa il due di bastoni papa due di bastoni toro mese di giugno l'asso di denari ok la giustizia l'asso di spade e il sei di coppe è volato quindi qui c'è un qualcuno o un qualcosa che si ripresenta ma noi l'abbiamo già visto quindi qui c'è sia un qualcosa di vecchio che si ripresenta che ti dà la possibilità di sistemare di aggiustare in un certo qual modo ma anche nuove opportunità questa nuova opportunità si sposa alla perfezione con questo arco qui con queste nuove opportunità nuove possibilità e nuove strade che si aprono davanti a te quindi qui c'è proprio il nuovo un qualcosa di nuovo che tu farai un qualcosa di nuovo che intraprenderai qui ci può essere anche fanno vedere in modo abbastanza chiaro e netto insomma un matrimonio quindi ci può essere anche chi si sposa o più semplicemente chi parteciperà a un matrimonio anche se non è anche se non è il suo è per l'amor di dio ok fatto sta che qui il matrimonio lo vedo forte e chiaro cos'altro comunicazioni sicuramente arriveranno qui guarda ci può essere anche chi di voi sistema casa che farà dei lavori in casa una ristrutturazione piccolo grande piccolo grande piccolo grande che sia insomma qui fanno vedere fanno vedere anche questo queste carte qui molto vedo anche o una coppia di amici o semplicemente proprio amici uomini e donne che siano che ti sono dintorno ma quello proprio dove mi cadono gli occhi e senz'altro questa nascita guarda che bello il quattro di bastoni questa questa nascita questa realizzazione quindi chi si sposa chi avrà un figlio chi lo concepirà chi lo mette in porto chi lo mette in cantiere come si dice chi il figlio lo mette in cantiere ma anche in special modo il lavoro quindi qui c'è un qualcosa sul lavoro se tu sei uno studente sono gli studi ovvio no il tuo lavoro è quello quindi se si parla di studi qui fanno vedere gli studi splendidamente superati fanno vedere di nuovo l'unione la coppia quindi qui tu farai qualcosa passerai dei momenti molto affettuosi molto romantici ma anche molto emozionanti insieme a questa persona che tu ami che tu ami sia a livello proprio di coppia quindi uomo donna insomma coppia nel senso passionale del termine ma anche perché no comunque sia con una persona che può essere la sorella la madre un'amica carissima o amico i padri bla 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 ok mi raccomando lo dico sempre perché ovviamente anch'io all'inizio quando leggevo le carte vedevo l'amore due di coppia la coppia pensavo subito a quello invece non è sempre non è sempre quello anche perché non è di quello che chiediamo quindi questa persona molto cara può essere chiunque non è detto che sia la persona no di cui siamo innamorati ecco comunque qui ci sono i locali quindi sicuramente le uscite tu parteciperai ad un qualche ad un qualche cosa ci può essere la nascita di una bambina femmina fammi sapere di chi è sta bambina ma anche ci hanno fatto vedere il concepimento va bene qui ci sono anche dei soldi che arrivano quindi un periodo molto prospero anche sotto quel punto di vista lì ci può essere chi partecipa ad una riunione lavorativa molto importante che chiarirà molte cose studenti se tu c'hai degli esami qui tu vai alla grande no grande grandissima ti ci metto la firma la firma sotto quindi periodo molto positivo con gli amici toro qui posso parlare tre giorni mi devo fermare se no qui parla troppo comunque positivo 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 forse anche solo per quel protone che rientra in capricorno che ti darà possibilità di scavare più nel buio no in quel pozzo buio dove molte volte non ci attentiamo ad entrare però insomma tu vedrai qui vedo molta luce quindi sicuramente tu farai molta chiarezza anche 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 dentro di te va bene toro mi raccomando fammi sapere nei nei commenti e dimmi insomma che cosa tu stai che cosa tu stai vivendo va bene io ti aspetto qui al prossimo video ok ciao toro ciao Grazie a tutti.